Io non voglio commentare le azioni del mio segretario del PD, svolgono il loro ruolo finché chiedono di chiarimenti e legittimo. Il tentativo eventuale di strumentalizzazione su questi temi io credo sia da respingere perché non lo considero un atteggiamento utile e anche rispettoso. Questo è un dato, dopodiché i chiarimenti sono sempre necessari e legittimi e nessuno sfugge ai chiarimenti che vanno ovviamente fatti avendo nozione di quello che è accaduto e quindi con i soggetti che investigano su questo tipo di processi daranno riscontro. Mi sembra oggettivo che in queste ore stiano emergendo tanti chiarimenti anche sul passato di sostenitori autorevoli della Stata, ho visto un letto di Speranza, un letto di un alleato importante che hanno nell'opposizione Conte, insomma in queste ore ci sono tanti chiarimenti che emergono con il tempo necessario, ma prima o poi chiarimenti arrivano sempre.